Buonasera e ben ritrovati di nuovo a Vita d'Atleta. Torniamo a parlare di Sky Race, Sky Running, Ultra Trail. Nel particolare l'ospite di questa sera è Fulvio Dapiti, il campione italiano in carica di Ultra. Ciao Fulvio. Buonasera. Ciao, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Qual buon vento a Livigno? Ho approfittato di qualche giornata libera dal lavoro per venire qua per allenarmi in quota. Livigno è il posto ideale per noi atleti di Ultra e anche per gli Sky Runner. Stai preparando qualcosa in particolare? Una stagione lunga la tua, cominciata già praticamente in primavera, se non a fine inverno e che proseguirà ancora a lungo. Sì, vorrei chiudere con qualche gara molto importante degli Ultra Trail in Francia, dei Templier, che è a fine ottobre. Aggiungendo in mezzo, il mese di settembre, qualche gara diciamo qua e là vicino casa, perché col lavoro è molto difficile staccarmi per molti giorni e quindi cercherò qualcosa vicino casa. Comunque è già iniziata molto molto presto, perché ormai sapete che la stagione nostra non si chiude quasi mai perché si può correre in tutto il mondo e quindi alla fine io per me ho incominciato già alle Canarie il mese di marzo e penso che finirà comunque a fine ottobre perché poi ne darò un po' di pausa per recuperare un po'. Una stagione che ti ha già regalato il titolo italiano secondo nella tua carriera di Ultra Trail, quindi è partita bene, insomma una stagione positiva. Sì, sì, è partita molto bene, anche se il mio obiettivo quest'anno era da chiudere delle gare oltre i 120 km, invece per motivi vari e anche per mancanza di esperienza, che comunque io fino a 80-90 km adesso sto molto bene, però la gestione delle gare è ancora molto difficile a livello personale, perché queste gare sono molto particolari proprio per la distanza, per le ore che uno sta in giro in montagna, oltre che per il ritmo. e purtroppo devo mettere in conto due ritiri importanti, sia la Gran Canaria quando ero nei primi sei e la Vared Ultra Trail quando ero secondo e potevo finire la gara molto bene, però problemi fisici possono condizionare queste prestazioni e quindi le metto in conto già all'inizio della stagione. È stato un peccato perché per me quest'anno l'obiettivo era di riuscire a entrare nella World Series Ultra della North Face, per poter incominciare a essere invitato a qualche gara un po' più importante e far rincominciare gli italiani ad andare in gare importanti all'estero, come ha fatto Marco Olmo e questi grandi nomi italiani nell'Ultra. Perché dunque per entrare a far parte di questo GOTA dell'Ultra Trail bisogna avere dei tempi, dei piazzamenti? Sì, bisogna avere dei punteggi. ITRA, che sarebbe l'International Trail Running Association, sono dei punteggi che ogni gara, in base al tempo, al dislivello e alla distanza, si possono avere dei punteggi ogni gara al suo punteggio. e chi fa parte dell'Elite deve avere almeno 800 punti su 1000, quindi è molto ristretto il campo dell'Elite, quindi per entrare in questa Elite bisogna fare tot punteggi. Quindi l'Ultra Trail è un circuito di 10 gare, le più famose del mondo, oltre 100 km in tutto il mondo, che permettono di avere questi punteggi molto alti. 100 km a parte, ma il dislivello di quanto è di queste gare? Sì, quando parliamo di 100 km parliamo di gare che partono dai 6.000 ai 7.000 metri positivi di dislivello, quindi sono gare abbastanza impegnative, non sono gare facili, non sono gare allenabili per tutti, perché bisogna allenarsi tante ore. Il problema più grosso che abbiamo noi atleti non professionisti come me, che hanno anche un altro lavoro, è questo di trovare il tempo, di ritagliare in mezzo alla famiglia e al lavoro per poter gestirti anche in gara, in queste cose qua. Certo. E non è facile. Una gara del genere più o meno in quante ore si porta a termine? Ad esempio la lavare di Ultra 3, che non è la più di dura, sulle 13 ore, 12 ore e mezza. Mentre non sono Gran Canaria, che siamo sempre là, però molto più dislivello, si chiude in 14 ore, 14 ore e mezza. Tu hai accennato, Fulvio, poc'anzi ad alcuni, a due ritiri eccellenti, quando in verità eri già oltre la metà gara, quindi il ramarico è maggiore. Sì, in particolare la lavare di Ultra Trail mi è costato molto, perché già l'anno scorso l'avevo provata, stavo davanti, proprio ero primo e ho dovuto cedere, perché nel mio modo di correre non è il mio modo di finirle queste gare, io voglio finirle, però voglio finirle con un ritmo che io posso tenere, non vado per chiudere una gara, arrivare due ore prima del primo, ma per me chiudere una gara bene vuol dire arrivare lì nei primi, però con le sensazioni buone, non arrivare per chiudere una gara giusto per finirla. Chiaro che se io vado a un ritmo molto più lento, la chiudo, non è un problema per me far 120 km, e come li fai? E quindi non è lo stesso modo di correre che ha una persona che dice, vado a farla per fare il finisher, io la faccio per avere un risultato mio, che poi è un risultato per me, non è per gli altri, non è un confronto con gli altri, ma prima di tutto è con me stesso. È la filosofia che ho un po' cambiato dalle Sky, in cui cercavi di fare tutte le cose, tutte le gare molto veloci, tecniche, nel meno tempo possibile, invece qua è proprio una sfida con te stesso, cioè a vedere se riesci anche, dopo aver fatto tutto quello che ho fatto io, partendo dall'atletica, andando alla corsa in montagna, arrivando alle Sky, a chiudere con un ultra trail, con queste distanze che sembravano per me una cosa non da pazzi, ma quasi, insomma, approfittiamo della tua presenza, Fulvio, prima di andare a scoprire come sei nato atleta, per chiederti appunto la differenza tra il mondo della corsa in montagna, Sky Race, Ultra Trail e quant'altro. Sì, allora, partiamo dalla corsa in montagna, in cui sono soprattutto gare quasi tutte di salita, e gare non molto lunghe, diciamo, possiamo anche dire, stendiamo fino ai 20 chilometri, ma normalmente sono fino ai 10-15 chilometri, sono tutte in salita, e sono tecniche però fino a un certo punto, cioè nei sentieri normali di montagna, però non si va ad affrontare delle ferrate, dei pezzi molto tecnici. Poi si passa alla Sky Running, in cui invece si cerca di andare, si va sempre, si parte normalmente dal paese, la filosofia giusta sarebbe partire da un paese, arrivare alla cima e scendere, e si va anche a toccare delle cime oltre, superiore ai 2.000 metri, 3.000, e ci sono dei pezzi tecnici, attrezzati, non, ma dipende dal tipo di gare. E nello Sky Running adesso, anche lì si è cambiato molto le distanze, prima fare una maratona in montagna era già qualcosa di estremo, adesso anche nelle Sky si è passati a fare le Ultra, quindi gare 60, 70, 80 chilometri, in cui i dislivelli sono importanti, perché comunque su 80 chilometri si va a fare 4.500-5.000 metri di dislivello su 80 chilometri, che sono parecchi, e poi tecnici, sei sentieri molto tecnici, voglio dire pietre, ghiaioni, pezzi di creste, ferrate, come può essere stato, non so, in Italia c'è il Chima ad esempio, come il 4 luglio, le gare molto tecniche, che sono il simbolo di questa disciplina. ecco, mentre il Trail, diciamo, non è paragonabile allo Sky Running, perché è una cosa molto un po' più, diciamo facile, potremmo dire easy, perché è una cosa molto più corribile, diciamo, per noi atleti, diciamo, è più corribile, cioè, sono distanze molto più larghe, ma i dislivelli sono diluiti, più sui chilometri, anche se sono dislivelli importanti, e poi sono gare che possono essere fatte anche non così in alto, in quota, cioè le gare si svolgono soprattutto in località in cui hanno anche una grossa affluenza di gente, perché comunque i trail sono molto frequentati, cioè si parla sempre di mille, due mila iscritti per queste gare grosse, quindi ci deve essere anche una certa organizzazione della parte di chi decide di farle queste gare, e quindi è una diversità anche di numeri, diciamo, tra corse in montagna, sky running e trail, un trail che adesso c'è un boom enorme di questa disciplina, si parla sempre di muovere due, tre mila persone, certo, quindi è molto, è un movimento che sta crescendo, ma che comunque si vuole sempre diversificare dallo sky running, perché non sono la stessa cosa, ecco. Presumo però che chi arriva al mondo del trail, derivi da un passato di atleta di sky race, di sky marathon. Sì, neanche, magari qualcuno anche dalla strada viene, qualcuno che ha fatto tanto corso su strada, queste cose qua si specializzano un po' più sulla montagna, perché non essendo così tecniche le gare, le velocità sono anche molto alte, quindi si trova bene anche uno che viene dalla strada, però comunque deve allenarsi pure un po' in montagna, perché comunque ci sono le salite e le discese, però è molto diverso, soprattutto in certi tipi di gare, come abbiamo già nominato il clima, queste gare qua, in cui il fattore allenamento tecnico è fondamentale per arrivare a esprimersi ai massimi livelli. A tal proposito, ricordiamo nel mese di settembre, il Leattor de Jeanne, insomma una gara massacrante, una gara che richiama veramente una gran massa di corridori. Tu, Fulvio, hai già partecipato, parteciperai? No, io penso che non parteciperò mai, perché per me 330 km, con dislivelli superiori, decimila metri, penso che sia una gara, una gara oltre le mie possibilità, e non so, nella mia filosofia di corridore, queste gare così dure, così lunghe, non mi stimola, non mi piace queste cose fatte in tanti giorni, preferisco fare delle gare abbastanza dure, comunque, sempre superiori, non so, alle 12-13 ore, però anche in gare in cui si fanno in un giorno singolo, o comunque poco di più, con certe gare in 20 ore, 24 ore, però l'altro De Jeanne, per quanto sia bello, perché comunque fare tutto il giro della Val d'Aosta, comunque la Val d'Aosta è un buono, territorio bellissimo, delle montagne bellissime, però è una gara molto dura, e secondo me uno deve piacere queste cose, a me non interessa, non interesserà mai, chiedo, magari può essere a fine carriera, che magari una volta ci partecipo, ma senza nessuna ambizione, giusto per finirla, diciamo, ecco. Va bene, il tuo nome, Fulvio Dapit, è passato agli onori della cronaca, già a partire dal 2005, quando partecipasti al circuito di Coppa del Mondo, e per tre anni consecutivi, ti piazzasti sempre in terza posizione, alle spalle di grandi nomi, quali un Kilian Corneburgada, una Meia, quindi, insomma, la tua carriera è incominciata già ad alti livelli. Sì, diciamo che ho incominciato veramente le Sky Race nel 2004, quando ho fatto la prima volta la Dolomiti Sky Race, la prima gara di Coppa del Mondo, sono riuscito a vincere, battendo Bruno Bruno, e c'era Michele Tavernaro, che corre ancora, e poi, diciamo, da lì, ho cercato di migliorare, ho cambiato in tutti i modi le narmi, io mi sono fatto seguire da vari allenatori, da Dottor Roy, che è una persona molto conosciuta, adesso è anche presidente della Federazione Italiana di Sky Running, e da lì ho incominciato a seguire il circuito mondiale, che ho cercato di farlo per i primi 4-5 anni, fino a quando, diciamo, lo sponsor, e, diciamo, anche il lavoro mi ha permesso di farlo. C'è da dire che, comunque, nello Sky Running c'è una grandissima differenza, tra chi comunque lo fa come professione, e chi lo fa come me, come non amatore, ma come semiprofessionista, perché comunque, i primi anni non è stato così difficile vincere le gare, perché comunque il livello anche in Italia era alto, ma non era altissimo come lo è adesso invece. Quindi, girare il mondo non era così semplice, perché comunque l'organizzazione delle gare era a titolo personale, nessuno ti aiutava, era molto difficile, adesso si sta organizzando molto meglio, però comunque non è stato neanche uno scherzo, diciamo, riuscire a arrivare terzo con questi nomi che tu hai elencato, persone che sono per me inarrivabili, perché comunque hanno un livello, non solo di allenamento, ma hanno anche proprio delle qualità personali enormi, come può essere Riccardo, come può essere Killian, lo stesso Marco De Gasperi, che conosciamo molto bene. Io mi sono sempre ritenuto un buon atleta, però loro per me sono sempre stati delle persone a cui io ambivo arrivare, e ho cercato sempre di fare il massimo. Magari qualche volta li sono arrivati vicino, quando io stavo benissimo, però non ho mai avuto la fortuna, diciamo, di primeggiare con loro, però per me l'importante è essere me stesso, e avere persone come loro, così forti, dà sempre stimolo di fare meglio e di migliorarsi sempre. Beh, Fulvio, anche perché, diciamocela tutta, la grande differenza sta anche nella professione, loro sono atleti professionisti, tu sei un poliziotto, non sei nelle fiamme oro, ma bensì lavori sulla strada, quindi polizia stradale, quindi vuol dire che veramente il tuo tempo per correre è relativo, per allenarsi. Sì, come sempre dico, non mi lamento, perché comunque il mio lavoro, diciamo facendo i turni, è molto più, diciamo molto più tempo libero, però comunque il recupero, lavorare di notte, queste cose qua, sono molto penalizzanti, specialmente nel periodo di gare, nelle prime preparazioni magari anche no, però nel periodo di gare è molto difficile organizzarmi tutte queste cose, e certe volte mi tocca, come tanti sanno, saltare una, fare una gara, o saltarne un'altra, oppure fare una gara, scappare e andare a lavorare la sera, o saltare una mattina al lavoro e venire poi a fare la notte, cioè è molto complicato per me organizzare la stagione, che è una cosa che tutti normalmente dicono all'inizio dell'anno, io faccio queste, queste e queste gare, per me non è possibile, perché comunque con il lavoro devo sempre organizzarmi, e purtroppo in certe gare, come ad esempio adesso io volevo andare a fare una gara all'autoratria del Mont Blanc, che partiva proprio oggi, e vabbè, mi ho dovuto dire di no, perché alla fine era troppo tardi per iscrivermi, ma io prima non avrei potuto dire sì, però il problema è questo anche adesso, siccome sono tanti ambiti queste gare, c'è un numero chiuso, tu devi iscriverti già prima, e quindi io a gennaio non posso dire che corro la gara a agosto, non posso dire questo, e quindi purtroppo devo fare delle scelte, e le scelte mie quest'anno sono stato di fare quello che più vicino alle mie caratteristiche, erano abbordabili le mie caratteristiche, ma il resto viene da sé insomma. Fulvio, però è la fortuna di avere in casa la tua allenatrice, che è tua moglie, è una grandissima campionessa, Stefani Gimenez, è anche la tua massaggiatrice, perché lei di prima professione fa anche questo, quindi riuscite a capirvi, ad aiutarvi, a sostenervi, e questo non è poco. Certo, io devo tantissimo a Steffi, perché tutti lo sanno, perché da due anni mi allena anche, e devo dire che mi trovo veramente bene, ed è una persona che è molto professionale nel suo lavoro, e riesce sempre a tirare fuori il meglio da ogni persona, perché comunque lei non allena solo me, però nel mio caso, riuscita subito a capire di quello che io avevo, bisogno, e nel gestire anche il mio, diciamo il mio lavoro, il mio allenamento, nella maniera più giusta, e penso che sia stato difficile anche per lei, perché comunque era la prima volta che allenava qualcuno, su queste lunghe distanze, e vedere che io facevo questi belli risultati, è stata una graficazione anche per lei. E poi dal punto di vista dei massaggi, di quello che ci aiutiamo a vicenda, perché comunque anche io, mi piace fare i massaggi, io non sono qualificato, però lei mi ha insegnato molte cose, e ci troviamo, cioè ci aiutiamo a vicenda, però è fondamentale per un atleta, che fa tutte queste ore di allenamento, questi chilometri di dislivello, avere qualcuno che ti segue così da vicino, anche dal punto di vista dei massaggi, della riabilitazione, del recupero, perché se no, alimentazione anche fondamentale, è fondamentale, perché se no i risultati non vengono così, vengono dalle piccole cose, che poi unite una a una, portano al grande risultato. Sono i dettagli che fanno la differenza, questo lo sappiamo, è stato un amore che è nato sui campi di gara? Sì, tanti lo sanno, tanti no, noi ci siamo conosciuti in una gara di Coppa del Mondo, in Giappone, dove nel 2006, io la vidi, non so, io non sono una persona che va, molto diciamo, sono spontaneo, però non sono uno che si fa avanti così, quando l'ho vista, mi ricordo ancora, ho detto che bella, questa nella mia testa, ho detto così, e da quella volta è rimasto qualcosa, ci siamo sentiti per un po', e poi dal 2008 ci siamo rivisti a Zegama, e da Zegama abbiamo cominciato a frequentarci, e poi ci siamo sposati nel 2009. Lei è atleta Salomon, andorrana, quindi viveva un po' tra Andorra, la Francia, se non ricordo male, e poi te la sei portata in Friuli. Sì, abbiamo, diciamo, fatto come fanno tutti gli innamorati, andati avanti e indietro, un po' io e un po' lei, e poi a un certo punto io gli ho detto, così non è più sostenibile, o vieni tu da me, o vengo io da te. E vabbè, io abito in Alto Adige, il posto per allenarsi è perfetto, e per lei è stato un sacrificio grandissimo, lasciare tutto quello che aveva là per venire da me, però è stata una cosa, io avrei fatto lo stesso, però era stata una questione di tempistica, io avevo prima preso la casa, il lavoro mio è un lavoro sicuro, comunque la polizia è un lavoro sicuro, ho detto, dai Steffi fai questo sacrificio, lo so che è stato molto difficile per lei, all'inizio mi sono sempre chiesto, ma se l'ho fatto bene, però avendo conosciuto la persona che è, adesso so che ha fatto la cosa giusta, e io sono molto felice di questo. Certo, Fulvio abitate attualmente a Racines, una frazione vicinissima a Vipiteno, ma tu in realtà sei friulano. Sì, io sono nato in Friuli a Gemona, dove nel 1976 è stato quel terremoto grosso, io ero molto piccolo, non mi ricordo niente, però il Friuli è stata sempre una terra in cui porto sempre nel cuore, come tutti i friulani, molto attaccati alla loro terra, anche se girando sia col mio lavoro che prima e poi con le gare, ho apprezzato anche molte altre località. Non è che ho dimenticato il Friuli, però ho cercato di andare a vivere in un posto in cui mi permetteva di fare le cose che piacciono di più a me, non so, per l'estate, la montagna, i ghiacciai, queste cose qua, d'inverno lo sci, in cui io pratico molto sci alpinismo, sci di fondo, in cose in cui io quasi non devo prendere la macchina per andare a fare allenamento, cioè tutti i giorni esco da casa e ho le piste lì e quindi è molto facile per me allenarmi e anche fare le cose che mi piacciono. Ho cercato anche con Stefi di trasmetterle un po', perché lei venendo da Nandorra si sciava un po', ma non così tanto come faccio io e piano piano anche lei sta facendo delle cose alternative alla corsa nella stagione invernale, quindi anche lei è molto, si sta un po' modificando l'allenamento invernale. Certo, pratica dello sci, fondo e alpinismo, però senza indossare il pettorale di gara. Sì, sì, no, io sinceramente non so come fanno gli altri a fare due stagioni consecutive, perché la stagione estiva per noi è molto lunga e dura, a me piace andare in montagna, faccio comunque degli allenamenti anche non solo dell'uscita tranquilla, però indossare un pettorale è sempre una gara e non è, secondo me, un periodo di tranquillità, specialmente mentale, è molto importante di recupero psicofisico. Dopo una stagione molto dura e lunga, come faccio io, è fondamentale. Come sei nato sportivo? Sin da piccolino o ci sei cimentato in tarda età? Sì, no, già da piccolo. Mi ricordo quando andavo già con mio nonno con le mucche in montagna, che mi hanno avuto la fortuna di avere questa possibilità di andare già da molto piccolo. Quando avevo 5-6 anni andavo già con lui, gli aiutavo a pascolare le mucche. Andavamo anche negli alpeggi verso Sella Nevea, vicino Tarvisio. E poi è sempre stata la mia passione perché mia mamma è originale di paluzza e anche là è sempre in montagna. Io da piccolo stavo sempre con i miei nonni, le mie zii e quindi mi piaceva stare fuori nel bosco. Per me era normale stare tutto il giorno fuori nel bosco, su, giù, per le montagne. Anche che mi ricordo quando se andavamo in montagna con qualcuno io non stavo mai dietro, sempre davanti, mi devono sempre venire a cercare. Un po' come succedeva un po' a Killian, anche mio papà se ne ricorderà molto. che ogni tanto mi diceva ma dove è andato? Eh, è là al bosco e mio padre va venire a cercarmi. E non era molto semplice perché di notte senza la pila, ma io ho sempre stato così naturale. È una cosa che è un richiamo che ho tuttora adesso, tutti i giorni, anche quando vado al mare, che mi piace molto comunque andare al mare, la montagna, sempre quel richiamo. Preferisco sempre località in cui c'è magari una collina, una montagna vicino, in cui anche solo guardandola ti dice sì, mi sento quasi a casa. Beh, insomma, dai, la montagna ce l'hai nel cuore. Hai nominato Paluzza, mi viene in mente, la società Aldo Moro, in cui hanno militato i fratelli Emanuele e Giorgio Di Centa e tra queste fila, da piccolino, ci fu anche Fulvio da Pizzo. Sì, sì, come ti dicevo già prima, dopo il periodo in cui ho corso in pista con la società di Gemona, la Gemona Atletica, sono passato, dopo il mio servizio militare, l'anno che ho fatto di militare, sono passato dentro l'Aldo Moro nella corsa in montagna, ho fatto parecchie stagioni con loro e mi sono trovato molto bene. È una bella società, con, diciamo, in Friuli forse quella più forte, quella che ha i più grossi talenti, tra cui adesso anche c'è Tadai Piuk, che è lo Sky Run il più forte in Italia che abbiamo. Con loro ho fatto parecchie gare, campionati italiani, abbiamo fatto staffette destra-sinistra e con loro, dentro a loro, comunque sono migliorato molto con quegli allenamenti, un po' che mi seguiva Giorgio Di Centa, il fratello di Manuela, Andrea. E lì, piano piano, comunque sono andato verso delle distanze più lunghe. Prima correvo sulla corsa in montagna e poi sono andato alle distanze più lunghe. Comunque, devo ringraziare molto a loro perché loro danno molto agli atleti e si fanno in quattro. Per chi vuole correre, loro sono molto disponibili. Loro anche hanno la sezione invernale e l'uscita di fondo, ovviamente. Però io, essendo molto distante da loro, dove vivevo, poi io lavoravo a Padova, a quel periodo, non riuscivo a farle invernale, facevo solo l'estivo con loro e quindi ho cercato di fare il massimo d'estate. Di loro posso solo avere una bella impressione. Gli ho ringraziati sempre. Purtroppo, dopo un periodo, ho lasciato la società loro perché vivendo, diciamo, a 200 e passa chilometri da loro e cominciando a correre sullo Sky, ho deciso di lasciare stare perché comunque per me avere una casacca per la costa in montagna e non correre mai non aveva senso. Certo, certo. Siamo a un chiusura, Fulvio, magari agli altri ringraziamenti? Sì, beh, come tu hai già citato, vorrei ringraziare tantissimo mia moglie perché comunque è la persona ideale per fare tutto quello che io voglio fare nella mia vita. È bella fortuna. Certo. Sia come persona che come massaggiatrice, come allenatore. e poi voglio ringraziare comunque gli sponsor che mi assistono sempre le primi Scresidea che fin da quando ho incominciato nel 2004 mi ha sempre fornito materiale e mi ha sempre aiutato. E, vabbè, la sportiva perché comunque sono dieci anni che corro con loro e diciamo che non mi hanno mai fatto mancare niente e non posso che ringraziarli di tutto quello che hanno fatto sempre per me. Benissimo. Io a questo punto ringrazio te ti auguro davvero ancora una carriera ricca di successi e grazie ancora per essere venuta a Vita d'Atleta. Grazie a voi. È tutto per questa sera. Grazie per la cortesa attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata.